Bilancio positivo anche per la rassegna Disney oggi. Qui vediamo lo staff di Topolino. Cavazzano, Scarpa, Candy, sono alle prese con le curiosità degli appassionati che li interrogano sulle storie vecchie e nuove da loro inventate. E a proposito di Topolino, ieri sera al Teatro del Giglio, lunga, lunghissima cerimonia dei premi, tanti, forse troppi. Il più importante, secondo noi, è quello assegnato proprio al romano Scarpa. Uno dei grandi disegnatori italiani di Topolino, un riconoscimento all'intera sua carriera. Topolino e l'unghia di Calì, Topolino e il doppio segreto di Macchia Nera, sono i suoi capolavori tra gli anni 50 e 60. Scarpa con Gottfredson e Carl Bux è uno dei tre grandi della Disney di tutti i tempi e lo sanno anche gli americani.